Buongiorno amici di 696 TV 8 Channel e benvenuti alla prima rassegnazione La rassegna stampa del 2018, vi rinnovo innanzitutto i miei auguri Allora andiamo a vedere subito i quotidiani che potete trovare oggi 2 gennaio 2018 in edicola Iniziamo la nostra rassegna dalla prima pagina del mattino edizione nazionale Intravediamo qui i quotidiani con l'aiuto in regia di Aldo Fenizia Ed allora il mattino che dedica la sua apertura a questa notizia Napoli, il capodanno delle stese Impiegato della Nato colpito da proiettile vagante in pieno centro storico Rischia di perdere un rene, terrore anche nel quartiere Arenella E poi spari due scooter in corsa a San Giovanni e a Teduccio Ferito un 12enne sul balcone ed ecco dunque Napoli il capodanno delle stese Il commento se la violenza si impossessa della festa a cura di Pietro Trecagnoli Ed ancora il focus del mattino, la città a mano armata in giro 12.000 pistole L'articolo di Francesco lo dico Di spalla le idee, i ragazzi del 99 tra debutto al voto e futuro incerto di Giampiero Della Zuan Ed ancora dalla prima pagina del mattino edizione nazionale Le inchieste del mattino con Sip boom di ricorsi appalti bloccati al sud Non solo l'inchiesta a Romeo, i contenziosi hanno fatto crollare gli appalti per 2 miliardi E poi dilaga la rivolta in Iran 13 morti, arrestata la ragazza senza il velo C'è anche l'analisi relativa alle tensioni che si stanno respirando in Iran Il caso Trump avvia Visa Rohani E ora di cambiare la lunga mano di Hamjeneded, di Fabio Nicolucci E poi l'economia di spalla, l'ultimo governo con gli aiuti di Draghi In taglio basso nella prima pagina del mattino edizione nazionale La critica al direttore napoletano a Vienna e il cinese Wung Chung a Venezia Il derby dei grandi concerti al maestro Muti E poi il 2018 nel pallone dalla A di Aurelio alla Z di zero sconfitte in trasferta Senza mondiali al bel calcio resta Sarri Stasera l'Atalanta, la coppa del turnover contro lo scoglio Gasp e quindi Napoli-Atalanta per l'accesso alla semifinale di Coppa Italia Questa la rivediamo nella sua interezza È la prima pagina del mattino edizione nazionale di oggi martedì 2 gennaio 2018 Ci spostiamo adesso sul mattino edizione Napoli Capodanno anche qui è tempo di amare i bilanci 20 ragazzi in coma etilico Folla al concerto di Terroni e Capitoni Forfè di Salda Vinci in strada 500.000 persone Regge il piano sicurezza Meno botti, più alcol, boom di ricoveri al Cardarelli Grande festa dal plebiscito al lungomare Il sindaco stoccata di Dema Troppe transenne e scoppia il caso Di spalla ancora la politica 5 Stelle, attivisti anonimi puntano alle urne E poi il commento Da venerdì il via ai saldi Sconti fino al 50% E poi Capri Hollywood Il premio Boniello a Titta Fiore E Gianluca Isaia Siamo con i sommarietti con il commercio E Carpi Hollywood Come tematiche che vengono trattate Nella prima pagina del mattino edizione Napoli E poi lo show, i disagi Questa è una foto fatta appunto in piazza plebiscito Niente metro, bus fermi La vergogna di San Silvestro E poi il cardinale Monito di Siepe Salviamo i ragazzi vittime di eccessi Siamo appunto al caso dei 20 ragazzi in coma etilico al Cardarelli Articolo di Maria Chiara Aulisio E ancora blitz della polizia penitenziaria Nell'istituto minorile Nisida spunta la droga nelle celle e nei bagni Era stata conservata per lo sballo nell'ultima notte del 2017 L'ipotesi portata da familiari dei detenuti E poi l'agguato Bagnoli Sei colpi tra la folla Ferita la moglie del RAS E c'è anche l'opinione a cura di Stefano Sorvino Smog trasporti Svolta eco In taglio basso del mattino edizione Napoli Il ricordo Addio alla frontfalder pedagogista illuminata Andiamo all'interno del mattino edizione Napoli Con pagina 24 e 25 L'allarme Meno feriti ma emergenza Alcol 20 ragazzi ricoverati in coma etilico I botti fanno meno danni dell'anno scorso Ma è sempre più giovani Bevono troppo I numeri Boom di accessi al Cardarelli In totale 35 feriti contro i 46 del 2017 Questi sono i dati di questo bilancio Per certi versi drammatico Come sempre del Capodanno Colpito da un petardo A proposito di bilanci sgradevoli 14enne Rom in gravi condizioni Il dramma Il ragazzino residente a Scampia Ha il viso e una mano devastati A rischio la funzionalità di un occhio L'incidente Il minore si aggirava tra i palazzi del quartiere Raccogliendo botti inesplosi Poi la tragedia Andiamo avanti Ancora con il mattino edizione Napoli Con il bilancio di Capodanno Mix fatale del cuore La colpa è dei genitori Palladino Madri e padri giustificano E minimizzano Con il boom di casi di coma etilico L'analisi Il consumo smodato Provoca gravi lesioni Anche nel tempo E poi In taglio basso Se per ragazzi vittime degli eccessi Salviamoli L'appello Il cardinale Un momento di festeggiamento Non deve trasformarsi In una tragedia E andiamo ancora avanti Con il bilancio di Capodanno Napoli In primo piano Il Capodanno Degli eventi Plebiscito blindato Show e brindisi Sul lungomare La festa dei 500.000 Folla Il concerto di Terroni e Capitoni Forfè Di Salda Vinci Andiamo ad ora Ad approfondire Questa tematica Del bilancio Con il servizio Di Angelo Giuliani 5 4 3 2 1 Paralui Per migliaia di napoletani Il 2018 È iniziato Con il brindisi In piazza del Plebiscito Dove è andato in scena Il grande jukebox Della musica del sud Sul palco Si sono alternati Un centinaio di artisti I due collettivi musicali Terroni Uniti E Capitan Capitone Salda Vinci Valentina Stella L'infiltrato Teote Ocoli Nelle vesti di Felice Caccamo E tanti altri Sono Capitan Capitone Voglio augurare A tutti quelli Che nel 2017 Non hanno avuto niente A quelli che non sono stati felici Quelli che hanno perso il lavoro Quelli che non lo trovano Tutti quelli che soffrono Un 2018 Invece tutto contrario Chi ne è bellicoso Piene di salute Benessere E felicità A Drapoli Gli auguri Più grandi Sono quelli che vinca Non si dice Non si dice Vi voglio dire Che ho avuto Una bella storia a casa E' nato un nipotino L'ho chiamato Maschio Con i bali Di essere sempre forti Con il sorriso Con tanto amore La voglia di vincere sempre Vincere tutto Scudetto nell'amore Nella gioia Nella salute Di vincere sempre In qualsiasi modo L'anno della vincita Vinciamo tutti Auguri Napoli Viamo Dopo il brindisi Di mezzanotte Il consueto spettacolo Dei fuochi d'artificio A Castel del Lovo La notte danzante Dei napoletani E dei tanti turisti In città E' proseguita Fino all'alba Nelle altre stazioni Del lungomare In piazza Vittoria Con live music E animazione Alla rotonda di Iaz Con la Tecno House Al borgo Marinari Con il revival 7080 E in via Partenope Dove si è ballato Latinoamericano Rieccoci in studio Io mi sono spostato Nel contempo Sulla prima pagina Del mattino Edizione Avellino I sommarietti Il giallo Omicidio Masucci Esami alla svolta Il ride Casetta dei formaggi Svaliggiata sul corso E un altro caso Pedaggi più cari Sulla Napoli Bari E ancora spazio Al basket E allo sport Nella prima pagina Del mattino Edizione Avellino I padroni di casa Non avranno Il croato Stipcevic La Sidigas è pronta Questa sera A provare a sbancare Sassari Contro un avversario ostico La Scandone Cerca una vittoria Per rimanere Ai vertici Della classifica Lo statunitense Lo vediamo qui Nella foto Dez Wells Ritorno soft Dopo l'infortunio Per il cestista Della Sidigas Scandone Avellino Di spalla Il calcio Avellino Nessuno vuole Moretti Siamo ovviamente Già in proiezione Calcio mercato Non solo in entrata Ma anche in uscita E ancora Dalla prima pagina Ed è il mattino Edizione Avellino L'esponente Dell'opposizione Accusa Forzati tempi Avevo previsto Anche i nomi Degli otto nuovi ingressi Comune E bufere assunzioni Preziosi controfoti Operazione clienterale Porterò tutti gli atti In procura Di spalla La politica si muove La politica si muove Agostino PD Nodo alleati Demita Accelera Mi candidò qui E ancora In taglio centrale La polemica I commercianti Il caos Traffico Danneggia I saldi Capodanno Tempo di bilanci Anche in Irpinia Spari con il fucile Da caccia Per festeggiare 35enne Ferito dai pallini Vaganti E ancora Spazio alla politica Di spalla Con il centrodestra Fratelli d'Italia Cercasi il nome Per Ariano E ancora In taglio basso Forza Italia Ovviamente Chiedo scusa La prima nata Il 2018 Si apre con il fiocco rosa Di Antonia Eccola qui La bambina Antonia Con i genitori Gianluca Iandolo E Roberta Capone Questa è la prima pagina Del mattino Edizione Avellino Noi andiamo avanti Con la nostra rassegna Spostandoci sul mattino Edizione Benevento Anche qui Ampio spazio Allo sport Perché c'è questo Rumors Di calcio mercato Benevento Dalla Turchia Spunta L'ipotesi Inler L'ex centrocampista Del Napoli Nel mirino Della società Ceravolo Coda Trattative con il Parma Per lo scambio E poi Sommarietti Sant'Agata De Goti Debiti fuori bilancio Conto da 74 mila euro Montesarchio Elezioni Clima acceso Da bilanci E manifesti E poi Casalduni Aree rurali Avanti con il depuratore Ancora lo sport C'è anche questa notizia La gioia Per Capitan Lucioni Nozze da capitano Di spalla Cerrito Sanita L'autismo E il sostegno Del Vescovo Articolo A firma di Luella De Ciampis E poi Capodanno Il piano sicurezza Funzione E gli auguri E gli auguri E gli auguri di Mastella Arisa E poi Il Te Deum A crocca Serve cultura Del progetto In taglio basso Due curiosità La prima Antonietta È il suo primo Vagito Del 2018 Siamo con i nascituri I primi Del 2018 E poi Il Bambinello L'estrazione E il rito Del bacio Questa è la prima pagina La rivediamo Nella sua interezza Nella sua globalità De Il Mattino Edizione Benevento E continuiamo Nella nostra rassegna Spostandoci Sull'edizione Caserta De Il Mattino La notizia di apertura Ha chiuso Il passaggio Sotto la reggia Felicori Non ci sono problemi Nel parco Ma quell'autista Deve pagare i danni Un camion pirata Si è infatti Incastrato sotto la volta Ad Ercole I vigili del fuoco Vietano il transito Ancora Dalla prima pagina De Il Mattino Edizione Caserta Il bilancio Anche qui Del capodanno Casertano Le zone a maggior rischio Restano L'Aversano Il Maddalonese E la fascia Del litorale Domiziano Botti Record positivo Solo 4 Feriti vievi Le progne Si sono contenute Tra i 10 e i 20 giorni Di querigione Nessun minore È rimasto coinvolto Sommarietti Da Aversa 6 nuovi assunti Ok Dalla giunta E poi Maddaloni Svuotati gli uffici Vigili Tutti in strada E poi Piedi Montematese Troppi furti in casa Appello all'esercito La polemica Parete spari Nonostante Luigi E poi Il calcio Serie C Di spalla La Casertana Ora guarda Al mercato Dopo la bella vittoria In trasferta Al Massimino Contro il Catania E poi la politica I cosentiniani Ora si dividono Tra sinistra E destra Ed ancora I effetti Città tagliate in due Traffico impazzito La protesta Niente concertone Del 31 Serrata Day Bar Ancora spazio di spalla Allo Sport Anche con la Serie D Aversa La svolta Lascia il DS Caso E poi La curiosità In taglio basso Gli studenti Controllano i fondi Per Carditello Questa la prima pagina Del mattino Edizione Caserta Ci spostiamo ora Sull'edizione Salerno Per completare Il nostro tour Provinciale Con le prime pagine Delle edizioni Del mattino Capodanno Festa con troppo alcol La mannoia Riscalda la piazza Dei 50.000 Un brindisi Da combattenti Sul palco Napoli Ma non De Luca Botti Bilancio soft Ma è boom Di ricoverati Tra i giovanissimi Per abuso Di cocktail e liquori Di Sommarietti La cultura La rivoluzione Del 68 50 anni d'arte Il personaggio Tiziana Una chitarra Per la solidarietà E poi l'evento Agresta Superstar Porta il Verdi In Rai Di spalla La fede Il cammino Di San Matteo Via libera Della regione Ancora di spalla Il fiocco rosa La prima nata Nel Salernitano E a Nocera Benvenuta Asia E ancora E dopo Fiorella Tutti con il naso all'insù Per le lanterne cinesi Lo spettacolo Il riepilogo Di quello che è stato Il capodanno A Salerno E ancora Dalla prima parte Del mattino Edizione Salerno Di spalla Il monito Moretti Mette i mali All'indice Le luci Fatue Poi 15 casi Nel 2017 Contro i 10 Dell'anno precedente Un mestiere Sempre più Logorante Insegnare stanca Boom di prof Ammalati Le idoneità Valutate dalle commissioni mediche Stanchezza fisica E mentale La storia A 20 anni È il più giovane Comunale E poi Addio Gravagnolo Decano Del commercio Di spalla Ancora Dalla prima pagina Del mattino Edizione Salerno Il caso Bomba al comune Paura deboli Caccia a una BMW In taglio basso Oltre alle riflessioni Ancora qui di spalla La triste maratona Dei messaggi Seriali Punti di vista Tedesco Le pennellate Del macchiaiolo E poi la salernitana Fabiani Patto con l'Atalanta Nel mirino Ci sono Quattro talenti Degli orobici La prima pagina Del mattino Edizione Salerno Adesso ci spostiamo Sulla Repubblica Edizione nazionale Eccoci qui E allora Andiamo a leggere La news In apertura Abbiamo detto Di questa Violenta crisi Che c'è in Iran Dilaga la protesta Trump sfida Ruani Ha fallito Lo spettacolo Anche in Taglio alto Carmen si ribelle Nel finale dell'opera Non muore Lo sport Ciclismo Il tricolore Sparito Dalla maglia Di Aru E poi Di spalla Le idee La mossa di Kim Cavallo pazzo Alle olimpiadi Siamo ovviamente Alla candidatura Della Corea del Nord Per le olimpiadi E poi il manuale Dei buoni propositi Ancora qui Tra le news Di spalla Nella rinnovata Veste grafica Della Repubblica Edizione nazionale Che ormai conoscete Molto bene Cambiata da Più di un mese Il bel amore Americano Di guadagnino E ancora Tom Wolf Avevo ragione io Il popolo tradito Da radical chic Ancora Della prima pagina Della Repubblica Edizione nazionale Firme Bonino rompe Con il PD Radicali Impossibile Raccoglierle Andiamo soli Renziani Tattica per avere più Collegi La base Del Movimento 5 Stelle Contesta la rivoluzione Del codice etico Mattarella Appello ai ragazzi Sul voto Il punto La politica Senza memoria E poi l'angoscia Di farsi partito L'analisi Di Piero Ignazzi Poi la quarta pagina Lo Stato paga Col contagocce 800 giorni di ritardo Il triplo Della media europea E ancora Domande in calo Stipendi bassi Troppi rischi Prestiti in fuga Dalla scuola E poi Repubblica Salute Dal cervello al cuore Dalla diabete Ai virus La nuova medicina Che arriva dal futuro Questa è la prima pagina Della Repubblica Edizione Nazionale Andiamo al suo interno Con la speculare Di pagina 2 e 3 Iran I piani di Trump Contro gli Ayatollah Ruani alle strette Dilaga la protesta Almeno 13 morti I pass dran Pronti all'azione Prima e concessioni Del Presidente La Casa Bianca E ora di cambiare Il punto Niente leader e programmi La rivolta più rischiosa Il popolo in Iran Ha il diritto Di manifestare E anche di contestare Il governo Basta che lo faccia Seguendo le regole E senza violenza E Trump Non ha alcun diritto Di simpatizzare Con gli iraniani Che chiamava Terroristi Hassan Ruani Presidente iraniano È stato l'autore Di queste dichiarazioni Le tappe della protesta C'è anche spazio A questa mappa Con i punti più caldi Di questa protesta E poi Maschin All'Inijad Ci togliamo il velo Contro un regime Che ci vuole poveri Siamo stanche Di vivere Da schiave La storia Identichitta Dei manifestanti La generazione Senza futuro Che sfida I mullah Capitalisti Giovani Fra i 20 e i 30 anni Traditi dalle promesse Del governo E con il sogno Di lasciare il paese Ecco chi sono I protagonisti Della protesta Scaturita Dall'aumento Del prezzo Delle uova L'immagine Così la ragazza Dal velo bianco È diventata Un simbolo La vediamo Qui E continuiamo La nostra rassegna Con pagina 4 Burocrazia I soldi Alle imprese Quando lo Stato Paga in ritardo Ci sono dati preoccupanti I tempi Vengono riassunti Qui nel sommarietto Di spalla Si sono ridotti Eppure la Repubblica I tempi Si sono ridotti Eppure la pubblica Amministrazione Onora i suoi debiti In oltre 100 giorni Contro i 30 Che sono previsti In Europa Quindi spazio Anche a questo approfondimento Pagina 4 E andiamo avanti Andando a pagina 6 Il messaggio di Capodanno L'appello di Mattarella Ai nuovi ragazzi Del 99 E i partiti Siano chiari Il Quirinale Ricorda I giovani Caduti Nella prima guerra mondiale E lancia L'allarme sul lavoro Ma l'Italia è solidale Non rancorosa Un discorso di 10 minuti I record di Einaudi E Cossiga Ci sono anche dei paralleli Con gli altri messaggi Di fine anno Dei altri capi dello Stato Per quanto riguarda Mattarella Indica le urne di marzo Indicato come Una pagina bianca E la risposta All'ipotesi di scenari Già definiti Tra cui Un gentiloni Bis Avanti con La Repubblica Edizione nazionale I diciottenni Il rebus Delle urne Non è una politica Per giovani Roma Il messaggio Non l'ho ascoltato Se i politici Mignorano Io ignoro loro Poi ci sono tutte queste Testimonianze Raccolte dalla Repubblica Nella sua edizione nazionale Palermo Mi sento di sinistra Ma alle elezioni Dovrò Turarmi il naso Bologna La crescita degli estremismi È un rischio Però avverto Più interesse Torino Mi informerò Sulle liste Poi deciderò Non lascerò Che lo facciano Gli altri Ci sono alcuni estratti Delle frasi pronunciate Da Mattarella Tra cui Mi auguro Un'ampia partecipazione Al voto Fiducia nelle partecipazioni Dei giovani nati nel 99 Che voteranno Per la prima volta Pagina 8 Della Repubblica Edizione nazionale Il Movimento 5 Stelle Statuto E nuova associazione La base grillina È in rivolta I meet up Contro la svolta Di Di Maio Uccisa un utopia E Beppe E il suo blog Si defilano Le nuove regole Volta Gabbana Multati E le novità Sulle candidature Poi la polemica Che viene riassunta In tre punti Le critiche dei militanti Peggio del PCUS E poi la polemica La famiglia Crimi Il conflitto di interesse Che non piace Agli eletti Del Movimento Ancora avanti Con la Repubblica Edizione nazionale Pagina 10 Centrosinistra Bonino Rompe colpi di firme Impossibili Così andiamo da soli Senza circolare Del Viminale La lista europeista Bisogno di 25.000 Sottoscrizioni I renziani Tattica Per avere più collegi La partita È aperta Ancora L'intervista Sandra Zampa È un matrimonio d'amore Non di interesse Con Emma L'intesa Ci sarà E ancora Pagina 11 Il colloquio Della vedova Accusa Due mesi a bussare Ma Minniti Ha fatto il muro Di gomma Marco Minniti Ha detto È una questione Squisitamente tecnica Gestita Dall'ufficio elettorale Del ministero Dell'interno Ancora Andiamo avanti Con pagina 12 Abbiamo detto Del caso Corea del Nord Kim Terzo Il dittatore In cravatta Ora vuole negoziare Ai giochi Minacce Ai Stati Uniti D'America Bomba nucleare Pronta Ma apre al sud Dialogo Alle Olimpiadi Di Seul E poi Hanno detto Angela Merkel 27 paesi in Europa Devono essere spronati Più che mai A rimanere Una comunità coesa Quella sarà La questione decisiva Dei prossimi anni La Germania E la Francia Vogliono lavorare insieme Per garantirne Il successo E poi Emmanuel Macron So che molti fra voi Non condividono Le politiche di questo governo Mi assicurerò Che tutte le voci Comprese quelle dei scordanti Siano ascoltate Non smetterò di agire In tal senso Perché voi Lo reclamate Perché il nostro paese Ne ha bisogno Queste erano alcune Delle pagine Della Repubblica Edizione Nazionale C'è anche spazio allo sport Cercasi De Scudetto Le speranze E i limiti Del mercato A gennaio Serie A Domani la riapertura Degli affari Cosa cercano le squadre Di vertice Per spezzare L'equilibrio Versalico Darmian Emerson Tutte a caccia Di un terzino Il capodanno Di Serezo E quello di Nengolan Approfondimento Di Alessandra Retico E ancora La seconda pagina Della Repubblica Nazionale Delicata allo sport Anche se c'è questo studio I nuovi acquisti In Italia Giocano e segnano poco Dei 186 Arrivati in estate Ben 31 Non sono ancora andati in campo In Premier Utilizzati nel 66% Delle gare 59% In Liga Eccolo qui La seconda pagina sportiva Della Repubblica Edizione Nazionale Napoli La legge del turnover E gli straordinari Di Mertens La capolista del campionato Stasera il quarto di finale Di Coppa Italia Contro l'Atalanta In attesa di novità Dal mercato Il centravanti del Chievo In arrivo per fare Davice Al Belga Parliamo ovviamente Di Roberto Inglese Gol, gloria o solitudine Il mio ruolo Non sparirà mai Adesso ci spostiamo Sulla Repubblica Edizione Napoli Il commento Quei ragazzi prigionieri Dell'alcol Ovviamente Parliamo del boom Di ricoveri al carderelli Per casi di coma etilico Dopo il capodanno In primo piano Anche una nuova città Una nuova identità Per la città Napoli velata In compiutezza E grande spot Sotto il velo Si legge una storia inedita Di Paolo Frascani E poi la rivoluzione Della terra ad Arzano Intanto Migliaia in strade Per il nuovo anno Bilancio anche Della Repubblica Edizione Napoli Ma lo stop ai trasporti Rovina la festa Il sindaco Troppe transenne Il prefetto Noi avevamo già parlato Nel comitato sicurezza Il bilancio dunque Di capodanno San Giovanni Ride con spari Bimbo ferito Nella stesa E in centro Colpito un uomo Verso le elezioni Rebus dei collegi Nei 5 stelle Corsa Corsa di candidati Per i posti in liste Il personaggio Oggi I funerali Di Elisa Fronfelder Maestra Della pedagogia Italiana Io andrei però Ad approfondire Il tema Delle dichiarazioni Del sindaco Di Napoli De Magistris Allora andiamo Ad ascoltarlo Ho detto troppe Transenne Nel suo bilancio Relativo al capodanno A Napoli Abbiamo chiuso Un anno difficile Con dei risultati Importanti Da un punto di vista Normativo È quello di migliorare Sempre di più La nostra città È l'impegno Di una squadra Che ci crede E di un coinvolgimento Popolare Che è sempre più forte Ma c'è un argomento Il quale lei si augura Di portarlo in porto Nel 2018 Per Napoli Il miglioramento Della qualità Dei servizi E in particolare Il trasporto pubblico Nonostante tutto Però la piazza è piena Questo è un buon segno La piazza è piena Abbiamo portato la musica Ma ci sono troppe transenne Io credo che l'immagine Che viene fuori In tutto il paese È un paese Che ha troppa paura La sicurezza È un bene fondamentale Del paese Ma ho l'impressione Che ci sia un po' Una corsa A mettere a posto La pratica A perdere il buon senso Vedere la piazza Di Torino vuota Vedere persone Che non riescono A entrare in piazza E stanno tutte accalcate Dietro una transenna Con ragioni Anche quindi Di mancanza di sicurezza Perché se stai dietro Una transenna Non c'è sicurezza Questa è un'immagine Che a me non piace Ne parlai tempo fa Anche col ministro Dell'interno Un paese forte Deve avere la capacità Di non creare Tutte queste transenne La cultura È respiro È libertà È partecipazione È assenza di paura La sicurezza Si deve fare Si può fare Ma si può fare Anche in modo diverso Queste le parole Di De Magistris Io mi sono spostato Sulla prima Del Corriere dello Sport Ci avevamo la parte Conclusiva Della nostra Rassegna stampa Napoli Stellare Verdi E Grimaldo Il club prepara Il doppio colpo Per lanciare L'assalto allo scudetto Ecco le chiavi Delle trattative Con il Bologna E il Benfica E poi Juve Emre Can La sorpresa per Allegri Inter Missione dello Feu Il Barça apre E poi Milan Dembele Gattuso Cerca il regista Estero Goretzka Al Bayern Affare definito Ma per lui Premier Mu ok E poi basket Kuzminskas Milano fa il colpo L'Olimpio prende il Lituano Per rilanciarsi subito In Europa E poi caso Nainggolan Festa esagerata Del Ninja Multa Roma E lui si scusa Non video alcol Sigarette e bestemmie Il club interviene In arrivo Per lui C'è una sanzione E quindi Andiamo avanti Con 8pagine.it Andiamo a vedere Il nostro portale Eccolo qui Con la news In apertura Capodanno di sangue In Campania Ma meno feriti Il bilancio Anche di 8pagine.it Polizziotti Sulle tracce Dell'autore Del colpo Che ha ferito Del colpo Che ha ferito Un ragazzino A Napoli Lo abbiamo detto Il bilancio È ovviamente Di tanti feriti Anche se Per certi versi Meno drammatico Quest'anno Ancora dall'home Di 8pagine.it Per leggere Le news Di spalla Eccoci qui Qualche piccolo problema Di connessione Contiamo di risolverlo Prontamente Vediamo Se c'è la possibilità Di ripristinare Il collegamento Altrimenti Andiamo a leggere Questa notizia Che ci veniva accennata Nella prima pagina Di 8pagine.it Nella sua home Di questo ride Con spari Ferito alle gambe In una stesa Bimbo di 12 anni In via Carbonara Qualcuno festeggia Sparando Colpito alla schiena Un dipendente Della Nato Che rischia Di perdere Un rene E poi Abbiamo detto Di questo Bilancio Di fine d'anno Con l'emergenza Due ragazzi In cometillo Altri 18 ubriachi Finiscono in ospedale Trenda in aumento Nella notte di fine anno L'allarme Degli esperti Episodi Sempre più frequenti Che colpiscono La generazione Dei millennials E quindi C'è questo Bilancio ampio Che ci viene proposto Dalla Repubblica Edizione Napoli Che Che appunto Vado ad approfondire Questa tematica Noi abbiamo nel frattempo Ripristinato La connessione In realtà C'è ancora Qualche piccolo problema Allora andiamo a leggere Con Questo bilancio Della festa del plebiscito Molti turisti Tra la folla Ma la città Resta a piedi Successo dell'evento Nonostante la defaianza Annunciata dai mezzi pubblici In più di 100 mila Tra la piazza E il lungomare E c'è anche pagina 3 Di cui Vi do riferimento In realtà Ci sono Bilanci Un po' Diffusi In tutte le edizioni Il comune Siamo assolutamente Soddisfatti Del bilancio Della notte Di santi silvestro In tanti anche Per ballare Tra la rotonda Diaz Piazza Vittoria Via Partenope E al burgo Marinari E queste Erano le pagine Della repubblica Edizione Napoli Io vi invito A collegarvi al nostro portale Ottopagine.it Per gli aggiornamenti In tempo reale Da tutta la campagna Riepiloghiamo rapidamente Gli appuntamenti Con la nostra informazione Alle 11 Appuntamento Con il touchscreen Per consultare Insieme Ottopagine.it Mezzogiorno Tg Flash Edizione Avellino Alle 14 Il Tg News regionale 14.30 A Tg Sport E poi via via Con tutti gli appuntamenti Pomeridiani E serali Per tenervi compagnia In questo Inizio d'anno Io vi auguro Ancora Uno splendido 2018 Da parte mia Per il momento È tutto Buon proseguimento Con la nostra Programmazione Inizio d'anno